Il Capodanno 2023 a Napoli si prospetta come uno dei più importanti degli ultimi anni, atteso un vero e proprio boom di presenze con la città che si conferma destinazione preferita per i turisti italiani e stranieri. Quasi impossibile trovare un posto libero nelle strutture ricettive della città. Il turismo nella nostra regione farà il pienone, quindi già ad ora teniamo tutti i nostri alberghi, le nostre strutture extraalberghiere completamente al pienone. Siamo contenti, siamo felici, gli operatori del turismo sono contenti. Napoli continua ad essere una grande città richiesta dagli italiani e dagli stranieri perché è una città che ha un costo basso e un'altissima qualità di servizi e quindi questo ci fa veramente molto piacere. Il Comune di Napoli stima un incasso dalla tassa di soggiorno di 15 milioni. Per le attività commerciali i riscontri sono particolarmente positivi, tanto da far registrare un giro d'affari pari ai livelli pre-pandemia. Il 50% di questi hanno speso circa 130-140 euro per regali di pochi ma buoni. L'altro 50% ha speso mediamente 90-92 euro e ha fatto diversi pensierini. Tutto sommato è un giro d'affari da 250 milioni di euro che ha girato per le casse delle nostre imprese e quindi sul nostro territorio. Per fortuna siamo arrivati ai dati della pre-pandemia.